La CISA, la Feder Energia, rappresentata da Pietro Scalia e la Confederazione di Catania, guidata da Giovanni Lo Schiavo, manifestano grande apprezzione per il futuro del servizio idrico nell'area catenese. La recente sentenza della TAR di Catania, nata da un ricorso del Lance, mette in discussione l'operato di sindaci ATI e SIE e solleva ulteriori dubbi sull'avvio del gestore unico. Nonostante le implicazioni legali, la CISA ribadisce la necessità di garantire un servizio continuo e di qualità, soprattutto in vista della prossima estate. Pietro Scalia ricorda il tentativo dello scorso anno di proporre un tavolo tecnico tra ATI, SIE e le sigle sindacali, iniziativa poi abbandonata da CGL, CISL e UGL che hanno scelto un dialogo separato. La CISL sollecita un incontro con ATI e SIE per discutere le criticità del settore, aggravate dal caro energia e dalla carenza di personale. È evidente la necessità di adeguare le tariffe, promuovere investimenti e potenziare gli organici per evitare una nuova crisi idrica nella stagione estiva.